Seconda trasferta consecutiva in anticipo al sabato per la Meridiana che ha frenato la corsa in interrotta al vertice domenica sera a Mister Bianco. C'è un altro avversario diretto in esterna ed è la Ragazzini Red, capitolata per la seconda volta in stagione in casa della Catane. Solito 4-3-3, qualche novità in formazione iniziale per i catanesi privi di Marletta, dentro a Soltaniei e Petraliti sulle fasce basse, e che ripropongono Balsamo tra i pali e Nicolosi in mezzo al campo dove trova spazio, lanza fame. Subito Meridiana all'offensiva, in buca Nicolosi per Daniele Paterniti, ipnotizzato centralmente da Garaffo. Altro spunto di Nicolosi, sale in mancina assist per Lizio che ruletando trova il barco per battere di potenza e ancora Garaffo salva lo 0-1 dopo 4 minuti. Nel bel mezzo di una partita decisamente a tinte bianche, in maniera inattesa Randis stronca le velleità di manovra difensiva di Filippo Paterniti e punta dritto alla porta avversaria per poi centrarla e dopo 6 minuti la Ragazzini Red è avanti per 1-0. Partita che cambia in maniera netta le dinamiche perché la Meridiana soffre e non poco. La botta subita rischia di andare di nuovo sotto per via di due occasioni create da Cucuz nel breve volgere di pochi minuti. Si sveglia Lizio dall'altra parte, superata la metà del primo tempo, l'attaccante fa salire i suoi a rimorchio. Arriva Nicolosi, palla in mezzo e tiro deciso di Daniele Paterniti con tanto di miracolo dei locali a due passi. Dalla linea la fase di copertura della squadra di Patti inizia finalmente a non commettere le fatali leggerezze e dà il là a un rapidissimo contropiede alla mezz'ora. Lizio e Nicolosi ancora protagonisti ma il gol del pari non arriva per un palo di troppo. Prevedibile il piatto di Lizio poco dopo mentre l'ultima opportunità a salto della prima frazione firmata Sinatra che combina con Lizio, sale Nicolosi fino all'area piccola, vinto un rimpallo ma non fa i conti col muro di Scibona che salva in corner. L'innesto di Iorio al cambio campo in luogo di Petraliti riporta a destra Ecora e modifica il centro difesa secondo le direttive di Patti. La meridiana ricomincia con più rabbia rispetto a dove aveva lasciato. C'è di certo più cattiveria ma manca ancora qualcosa sul fronte della precisione soprattutto per vincere una guerrita concorrenza avversaria. Apertura di Sciacca per una finezza volante di Daniele Paterniti che chiude il triangolo con Lizio bordata di sinistro. Si supera ancora Garaffo e clamorosamente Sinatra ha le polvere più bagnate del terreno ancora leggermente inumidito dall'autunno ufficialmente. Arrivato oggi in città al quindicesimo batte velocemente una pulizione Daniele Paterniti al limite. Nicolosi stavolta cerca una soluzione più alta. Garaffo ancora partita vinta e non finisce qui perché su questa azione da sinistra è iniziata da Ecora e Nicolosi e proseguita in discesa da Sinatra anche Lizio deve ammainare bandiera di fronte al numero uno della Ragazzini il quale si oppone pure a un'opportunità l'ennesima stavolta vanificata da offside. Su corner di Daniele Paterniti poi Iorio prova a correggerla sul primo palo e finisce invece col servire Sinatra che pronto al tapin si ritrova il pallone sul piede di appoggio. Toscano dentro fuori a Soltaniei la Meridiana avanza il baricentro del resto lo impone il parziale a oltre un'ora di gioco mentre a centrocampo una sostituzione coinvolge Iuculano che rileva Filippo Paterniti. Poi nella mischia spazio ad Anastasio per Lanzafame. Lizio cerca lo slalom prolungato dalla fascia verso il centro ma il destro è spuntato. Poi si incarica di battere una punizione e preferisce la soluzione corta per Sciacca. Cross in mezzo da sinistra per il salto di Ecora. Sinatra è leggermente in ritardo per la finalizzazione. Minuto 35, Ragazzini in avanti pulisce l'aria Iuculano dopo un velocissimo rientro. Chiamato in causa Anastasio che va da Sinatra. Contropiede, prima dell'assist c'è necessità di liberarsi di Scibona. Cross in mezzo, tuffo e pareggio di Mattia Nicolosi che rompe il digiuno e pareggia una partita dove la Meridiana le ha provate tutte per sbloccarsi. Nicolosi realizza il sesto gol stagionale ed è un gol pesante perché salva i suoi da una sconfitta per 80 minuti che avrebbe sicuramente rammaricato tutto il gruppo per quanto prodotto. Ultimi tentativi per vincerla e riportarsi al vertice della classifica. Punizione di Sciacca e Iorio di testa non dà molta forza al pallone. Ma l'occasione più clamorosa, testimone di un sabato secco che più secco non si era mai visto sotto porta è in un altro tentativo aereo di Sinatra servito da Sciacca. L'ultimo rimbalzo decreta l'out del pallone dopo una carezzina al palo. Incredibile. Da riscaldamento il tiro di inizio neutralizzato da Graffo mentre il numero 7 della Meridiana sbaglia. Un gol clamoroso all'extra time quando riceve dal laterale di Ecora e da una prolunga di Daniele Paterniti. La Ragazzini, Red, resiste e porta a un punto che a conti fatti può essere una piccola impresa. La Meridiana impatta per la seconda volta di fila e potrebbe non guardare il bicchiere mezzo pieno. Domenica al seminare il ritorno in casa contro un avversario che si è avvicinato al secondo posto ovvero il Real Catania.